appena elisabetta udì il saluto di maria il bambino le balzò nel grembo ed elisabetta fu ripiena di spirito santo e ad alta voce esclamò benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno maria riceve la grande sconvolgente notizia che sta per diventare madre del figlio dell'altissimo una simile notizia è così incomprensibile e interrompe così radicalmente l'umile vita di maria che la si trova totalmente sola come fa giuseppe o uno qualsiasi dei suoi amici o parenti a capire la sua situazione con chi potrebbe confidarsi su quanto è venuta a sapere che è la cosa più intima che si possa immaginare e che rimane incomprensibile anche alle stesse di offre a maria un'intima umana amica con la quale può condividere ciò che appare incommunicabile elisabetta come maria ha sperimentato l'intervento divino ed è stata chiamata a una risposta di fede essa si può rapportare a maria come nessun'altra persona avrebbe potuto fare sono profondamente commosso da questo semplice e misterioso incontro in un mondo incredulo pieno di dubbi pragmatico e cinico due donne si incontrano e confermano l'uno nell'altra la promessa che hanno ricevuto l'umanamente impossibile è diventato realtà presso di loro per tre mesi maria ed elisabetta vivono insieme e si incoraggiano a vicenda ad accettare la maternità a loro data né maria né elisabetta dovevano vivere l'attesa nell'isolamento potevano attendere insieme e approfondire così l'una nell'altra la loro fede in quel dio per il quale niente è impossibile in tal modo il più radicale intervento di dio nella storia è stato ascoltato e ricevuto in comunità questo racconto mi insegna il significato dell'amicizia e della comunione come potrei mai lasciare che la grazia di dio agisca in pieno nella mia vita se non vivo in una comunità di persone che possono confermarla approfondirla e rafforzarla elisabetta aiutava maria a diventare la madre di dio maria aiutava elisabetta a diventare la madre del profeta di suo figlio giovanni battista dio potrebbe sceglierci individualmente ma egli vuole sempre che ci mettiamo insieme per far sì che la sua scelta giunga maturità serena giornata